Al Teatro Bolivar con Radio Taranto e i componenti della compagnia presentano il laboratorio teatrale dedicato a Nino e Carlo Taranto. Al Teatro Bolivar nasce il laboratorio teatrale Nino e Carlo Taranto. Come si apre appunto questa nuova prospettiva? Nasce per cercare di fare una cosa diversa come al solito, che provo sempre a cercare, un po' per omaggiare due figure importanti del teatro napoletano e un po' per far capire che è un laboratorio di interpretazione e non di recitazione, perché io lo dico sempre, recitare bene o male, noi siamo napoletani, siamo bravi quasi tutti quanti, a interpretare è un pochettino più difficile, per cui si cercherà di entrare nei personaggi, cercare di essere quanto più veri possibile e immaginabili. Io questo cerco di fare, anche perché credo che al pubblico piaccia questo modo di poi porsi in palcoscenico. Cosa si aspetta dal teatro Bolivar, dal teatro di Mater Dei, del cuore di Napoli? Ma io mi aspetto quello che ho trovato, un Tony De Luca pieno di voglia di fare, un gruppo di ragazzi di Scugnizia e Mo animati da un grosso entusiasmo, in me trovano una persona che ama questo mestiere in modo irrazionale, perché questo mestiere proprio ci vuole solamente, mio padre lo diceva, è fatto per gente che non sta buona che cervella, ed è vero, e io sono felice di essere uno che non sta buona che cervella. Cosa porterete a scena? Quali lavori metterete appunto in scena? In scena metteremo tre mie commedie, la prima si chiama Voi a Zuppate, una commedia del 92, nella quale si parla di terremoto, di politici corrotti, di bustarelle, infatti quando l'ho presa e l'ho letta ho detto ma l'ho scritta ieri questa cosa? Poi mi sono reso conto che è stata scritta 20 anni fa. Come seconda commedia porteremo in varietà, nel periodo natalizio, per cui grandi risate, cioè sketch, macchiette, numeri di finta magia, insomma uno spettacolo proprio divertente, per le famiglie, il classico spettacolo di Natale, per cui 28, 29 e 30 dicembre, 4, 5 e 6 gennaio. Il terzo spettacolo è una commedia in stile americo-napoletano, tratta da una commedia di Betancourt che si chiama Hanno sequestrato il Papa, ed è la storia di un tassista napoletano di Secondigliano che vive sfollato con la famiglia in un teatro di Secondigliano e rapisce il Papa chiedendo come riscatto una giornata di pace nel mondo. Non dico il finale perché è ovvio che aspetto che la gente venga qua a vederlo. Non si svella assolutamente. Com'è possibile iscriversi, com'è possibile partecipare, quali sono i riferimenti? Allora, per iscriversi è semplicissimo, basta fare una telefonata al Bolivar, fissare un incontro con me, perché io ci tengo a capire anche i ragazzi che vengono qua, le ragazze che vengono qua, tutti, cioè non c'è limite d'età, perché vengono qua, perché oggi questo mestiere a volte viene confuso con veline e tronisti. Io non preparo né tronisti né veline, cerco di distruggerli, per cui qua cerco di preparare o comunque di trasportare quella che è la mia esperienza ai 35 anni a gente che ha voglia di tirar fuori quello che ha dentro. Cosa significa per chi ha già esperienza, per chi comunque conosce il palco, intraprendere questo tipo di avventura, far parte di questo progetto? Beh, certo, per noi fa parte di questo progetto, poi con una persona come Corrado Tarant, che comunque ci può dare tanti tanti insegnamenti, noi come compagnia amatoriale, che è la prima volta a recitare con un professionista come Corrado, l'esperienza è fantastica, poi ci aspettiamo, spero, un bel riscontro di pubblico anche per questa cosa. Comunque l'esperienza sicuramente ci farà maturare a tutta la nostra compagnia, ripeto, partiamo come compagnia amatoriale, ma sono circa 20 anni che lavoriamo a teatro come compagnia amatoriale. La nostra opportunità, che ci ha dato Corrado, veramente per noi è importantissima, è un palcoscenico veramente importante. Un'opportunità anche per rilanciare il concetto di stabile qui nel cuore di Napoli, qui a Mater Dei? Assolutamente sì, con il progetto che il Teatro Bolivar ha deciso di abbracciare, si rilancia il concetto di stabile, cosa che oramai era andato un po' in disuso un po' da tempo. E' sicuramente un'opportunità del teatro nel Rione, Rione Mater Dei, che comunque storicamente è stato palcoscenico di eventi artistici di rilievo. Ricordiamo loro di Napoli che fu girato in parte anche a Rione Mater Dei. La nostra speranza come compagnia stabile del Teatro Bolivar è quella di comunque dare di nuovo lustro a queste cose storiche che oramai Mater Dei è impregnata da tempo. Chiunque stia per iniziare un viaggio, quel viaggio lo ha già immaginato mille volte. Da questo momento in poi, ogni scoperta sarà una sorpresa. E per ognuna che arriva, si aggiunge la trepida attesa verso quella che seguirà. Offrire questa emozione, tra tutte, è per noi la soddisfazione più grande. Un anno di People, un grande successo, una scommessa vinta, stravinta. Sì, sì, una scommessa stravinta, hai detto bene. Abbiamo fatto questa serata qui al Voga con oltre 600 persone, stanno arrivando via via. In meno di tre settimane siamo riusciti a coinvolgere tanta gente e soprattutto a rendere omaggio con il nostro premio People, che è al primo anno, come la trasmissione, ad alcune personalità molto importanti della nostra regione. C'è l'intero cast di Imposto al Sole. Abbiamo premiato e premieremo il presidente della sezione alimentare dell'Unione Industriale di Napoli, Peppe Sposito, i proprietari dell'Augusteo, Francesco e Alba Caccavale, l'attore Francesco Vitiello per la serie TV Soma, l'attore dei Cesaroni, Nunzio Giuliano, l'attore delle Tre Rose di Eva, Rocco Giusti. Insomma, davvero una bella serata anche ricca di musica, di belle ragazze, perché c'è la sfilata del nostro amico stilista Pinou. Devo ringraziare il mio amico e socio Antonio Cristiano, che ha creduto nella organizzazione di questo evento insieme ad Emilio Rosso. Insomma, ci sono tutte le premesse per fare una serata molto molto bella di successo. Ma come nasce People? Ma guarda, People nasce ormai un anno fa perché abbiamo pensato che fare delle interviste informali ai personaggi di maggior rilievo della nostra regione, io ho intervistato nel corso dell'anno il governatore Caldoro, il sindaco dei Magistris, ho intervistato il cardinale Sepe, i procuratori Ardituro, Raffaele Marino e Cafiero De Rao, Don Luigi Merola, tanti attori, tanti artisti. Abbiamo fatto una cosa molto diversa dalle altre, le interviste meno organizzate possibile, nei luoghi soprattutto dove queste persone lavorano, quindi la sfida era ridurre la distanza fra le opinioni pubbliche e le istituzioni. Penso che la scommessa sia stata assolutamente vinta e quindi anche con Antonio e con Emilio, che sono poi le persone a me più vicine, stiamo valutando di fare una seconda edizione di People. Ci sono trattative in corso con la nostra emittente, anche con altre, devo dire la verità, però pensiamo di confermare People per il secondo anno. Stasera appunto si raccogono i successi e già parli di progetti per il prossimo anno. Qualche piccola anticipazione su questa nuova edizione? Se noi dovessimo decidere come stiamo decidendo di ricominciare, ricominceremo a inizio ottobre. Naturalmente noi abbiamo previsto di fare sempre due eventi all'anno, almeno, anche se in realtà poi il proprietario del BOGA, Sigfrido Caccese, che è anche il proprietario del Duel, dove noi abbiamo fatto la festa a inizio produzione, ci ha detto ma dove voi dovete fare una festa al mese? Io ho detto che non siamo in condizioni, secondo me, di farcela Antonio, che qui vicino a me già scote la testa, però pensiamo, siccome il mio compleanno è a fine ottobre, pensiamo di abbinare la festa del mio compleanno alla festa del restart di People. Ovviamente tu, Mario Barone, che è dietro la telecamera, siete invitati e vediamo se riusciamo a superare il record di presenze. Che dici Antonio? Questa volta 600, la prossima volta, anche se c'erano sulle email mille persone in lista. Comunque. La prossima volta, diceva qualcuno, ti toccherà prendere una piazza per fare il tuo compleanno. Non siamo così megalomani, però sai, la cosa bella è vedere tante persone che ti vogliono bene, che ti stimano e che sono soddisfatte semplicemente di venirti a dare un abbraccio. Questa è la soddisfazione più grande, al di là della popolarità più o meno relativa che uno può avere grazie alla televisione, al di là della gente importante che ti saluta e che vuole essere intervistata. A me è la cosa più bella, davvero, senza ipocrisia, è l'affetto della gente. Dal Chiostro di Sant'Elicio si chiude l'appuntamento settimanale con eventi in anteprima. Per rivedere le puntate visitate il sito www.eventinanteprima.it e in streaming su www.anteprima.itv.com www.anteprima.itv.com www.anteprima.itv.com